salve amici del vaso di pandora l'asso di picche di oggi va a chi come me per esempio ha sempre sottovalutato davide casaleccio che ieri sera ha lanciato il manifesto controvento che ha già suscitato qualche ironia per esempio da travaglio sul fatto di urinare appunto controvento in realtà come ha spiegato oggi sul corriere della sera si tratta di una citazione dello scrittore giornalista giovannino guareschi caro al padre gian roberto comunque detto questo il manifesto vuole essere dice casaleggio junior un metodo di fare politica in realtà è la riproposizione quasi tale quale dei principi originari del movimento 5 stelle fondati sulla partecipazione digitale ovvero discutere condividere e votare online idee e progetti dico quasi perché dopo 11 anni dalla fondazione del movimento casaleggio i suoi collaboratori hanno per esempio messo in chiaro che uno vale uno non significa uno vale l'altro o meglio non dovrebbe significarlo e che i quesiti sulla piattaforma russo che è il sito con cui finora il movimento ha applicato la democrazia diretta elettronica non devono essere scritti per gli amici cioè fatti in modo che condizionino a priori la scelta finale come è stato per esempio il voto a favore dell'adesione al governo draghi che era semplicemente demenziale due le note da fare allora una è di merito allora se è verissimo che la politica in una società complessa e iperveloce come la nostra dovrebbe avvicinarsi il più possibile al cittadino che in teoria dovrebbe avere la prima e anche l'ultima parola sulle decisioni fondamentali che lo riguardano è anche vero e la pandemia esistenziale che stiamo vivendo subendo lo dimostra drammaticamente è anche vero che la democrazia per essere tale dovrebbe essere una pratica di comunità cioè fisica non solo virtuale i vecchi meet up cioè i gruppi locali no di amici di beppe grillo si chiamavano erano vitali agli inizi perché poi si traducevano in riunioni dal vivo faccia a faccia perché la comunità non è la community quindi va benissimo il metodo digitale ma dovrebbe essere completato anzi direi funzionale a un'organizzazione in cui ci si confronti letteralmente a viso aperto e non solo davanti a un computer inoltre per quanto rapido possa essere votare online a volte in politica bisogna decidere nell'arco di poche ore questo perché la politica democratica piaccia o meno ridotta all'osso è una guerra cioè un conflitto di idee e interessi diversi anzi diceva un giurista tedesco che è il politico come dimensione che si basa sulla distinzione fra amico e nemico se una guerra per combatterla serve sì utopia come dice casaleggio idee ribelli cioè visione sogni ma serve poi anche senso politico pratico e concreto cioè capacità strategica e tattica tenendo fisso il codice etico infatti questo in fondo è un metodo no un codice di comportamento che però nessuna regolina scritta può assicurare se non c'è la volontà di rispettarlo ma al tempo stesso usando a favore le regole non scritte del gioco perché la politica è questa difficile arte di conciliare l'ideale con il reale ed è tutta una questione di tempi solo che il movimento 5 stelle ora si è totalmente piegato al reale smarrendo l'ideale e su questo casaleggio ha ragione la seconda nota è proprio sul fatto che casaleggio con questa mossa ha messo al muro grillo di maio e tutto il cucuzzaro degli ormai ex grillini perché dice vedete noi qua siamo coerenti quindi ad esempio il tetto dei due mandati elettivi deve restare ma al tempo stesso aggiorniamo i nostri limiti se non siete d'accordo con noi dice casaleggio a a grillo e compagni noi ci teniamo l'elenco degli iscritti a russo che è il vero tesoro le sue mani e di fatto ci proponiamo come il vero movimento chiaramente la differenza rispetto al passato rispetto al padre gian roberto è che non c'era solo il cervello del padre c'era anche il carisma di grillo quando era grillo ma all'orizzonte si profila di battista la cosa fondamentale che però non sembra essere ancora chiara questa sorta di rifondazione grillina e che qualsiasi movimento politico per esistere nel tempo e per incidere deve farsi come dire avanguardia organizzata cioè un gruppo coeso in cui il dissenso interno ci sia ma non finisca nell'anarchia in basso e poi venga azzittito dalla dittatura in alto ma abbia appunto il suo spazio di elaborazione che poi finisca termini diciamo in una linea valida e rispettata per da tutti e per tutti in maniera però consapevole cioè cosa significa significa sapere quello che si fa avere una cultura politica casaleggio parla di formazione benissimo che però dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli attivisti non solo per i candidati alle elezioni perché la meritocrazia in politica non è essere semplicemente armati di buona volontà ma saper muoversi sul campo di battaglia questo lo dico perché vale per tutti questa è una nota che vale per tutti coloro che vogliono fare politica oggi casaleggio ha dimostrato di essere un buon tattico ma per essere stratega dovrà farsi promotore di una nuova schiera di persone formate integerrime per carità ma anche sanamente spregiudicate altrimenti ripeterà gli errori già commessi ecco il libro anzi i libri che vi straconsiglio oggi sono due e sono a scuola di politica che parla della vecchia scuola quadri del pc le frattocchie attenzione non per imitarlo ma per adattare certi esempi all'oggi che questo a questo serve studiare la storia e poi l'intramontabile caro vecchio niccolò machiavelli il principe che siamo sicuri che anche il buon gandhi che è stato citato ieri conosceva senz'altro perché bisogna saper farsi volpe e leone per non finire in pasto i lupi grazie 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 grazie